Nelle prime ore della mattinata invece decine di carabinieri del comando provinciale di Venezia e del battaglione Veneto con il sopporto operativo del nucleo elicotteri carabinieri di Treviso hanno effettuato un controllo nell'area dell'ex ospedale Umberto I di Mestre. All'interno dei locali del vecchio ospedale sono così trovati una quarantina di persone, quasi tutte straniere, che vivevano in condizioni di assoluto degrado, al freddo e in pagli ricci improvvisati. Tutti sono stati condotti in caserma per le operazioni di identificazione e i successivi accertamenti. Per tutti è scattata la denuncia per invasione di terreni ed edifici, nonché danneggiamento.